L'Avangelista Giovanni ci presenta Gesù come la parola che viene dal Padre e che porta la luce agli uomini. La vita del cristiano diventa così annuncio delle verità che portano a Cristo. Tal annuncio abbraccia tutta la vita, non si è cristiani solo la domenica o solo per i familiari, solo per alcuni amici. Gli autentici cristiani della verità sono pronti ad affrontare qualsiasi sacrificio per l'affermazione della verità, della fede e della dottrina cristiana. Questo che io sto dicendo ha una preoccupazione, il grande influsso del materialismo nella vita quotidiana di ogni famiglia e anche di quelle più radicate nella fede cristiana. E quindi bisogna stare molto attenti perché altrimenti veniamo sommesse e impastati in questa società che non si sa dove sarà il suo sbucco. Il tema della verità ha sempre affascinato gli uomini i quali generalmente accettano quanto viene proposto e quindi si spiegano tutte le soluzioni intellettuali con la fisica, la metafisica, con la matematica, con le varie scienze. Lo stesso Dio lo si accetta ma come frutto di una scienza umana. Terribile, terribile. Ora, questa realtà deve spingerci ad un continuo confronto con la parola di Dio e il magistero della Chiesa. Ci sono nelle parrocchie tante attività per la preparazione al matrimonio o per i bambini, quindi per i genitori che accompagnano per un cammino di aggiornamento e di fede che facilmente si fanno controvoglia e invece sono importantissimi. Altrimenti si rimane vuoti e si diventa schiave delle teorie moderne. E' bene inoltre considerare la responsabilità di dire la verità in quelle situazioni che incidono sulla vita dell'uomo. Citiamo le adulterazioni alimentari, le falsificazioni dei documenti, le illegalità nei concorsi. E' la storia degli uomini e noi, se sappiamo, dobbiamo agire con verità. Le offese alla verità. Tra i diritti fondamentali dell'uomo c'è quello dell'amore e della stima a se stesso. Ogni uomo desidera che la propria nobiltà venga sempre rispettata. Si dice, prima di aprire la bocca accertati che il cervello sia inserito, cioè prima di fare considerazione sugli altri accertarsi che il cervello e il cuore siano inseriti nella verità. L'ottavo comandamento stigmatizza quelle persone che con la menzogna riducono le persone ad oggetti dei propri interessi. Anche un semplice monosillabo pronunciato a tempo giusto può produrre una norma di offensiva. Anche un fiammifero però può produrre un incendio in un pagliaio. Attenzione alla calunnia che facilmente domina il cuore dell'uomo e quindi stare attenti alle trasmissioni televisive che portano lontano dalla formazione seria scientifica e dottrinale della fede. Di fronte al cattivo uso di tali strumenti non si può rimanere indifferenti e reagire per un corretto uso formativo.